appena in tempo ultimare il collegamento e come possiamo vedere è venuto a piovere e nuvoloso anche oggi piove questo è il collegamento che ho fatto con tutti i materiali di recupero che avevo avanzato io dei vari lavori quindi il tetto scarica nella prima cisterna e di conseguenza in cascata vanno ad una ad una riempirsi una volta che vanno a sfioro e riempiono una nell'altra per arrivare poi all'ultima l'ultima per il momento ha un'uscita di troppo pieno che andrà a perdere nel giardino direttamente in questo caso è stata fatta una batteria di 5 serbatoi quindi sono 5 mila litri d'acqua è stato sfruttato la pendenza del terreno perché era necessario appunto posizionarle a scalare proprio perché volevo utilizzare questo sistema del riempimento dall'alto e non quello dal basso per vasi comunicanti in questo modo io potrò decidere quale di queste cisterne andare a vuotare e ogni volta che piove si ripristina al livello automaticamente questo è il nostro giardino dietro la casetta ci sono altri 2 mila litri d'acqua e una cisterna da 500 quindi in tutto 2.500 da quella parte e 5 mila da quest'altra parte grazie a tutti